e ciao a tutti amici io sono franco versa e oggi andiamo a parlare ancora del pacchetto essenzial library per youtube che avevo recensito perché un amico mi ha detto in queste animazioni lo spazio per il logo lascia un buco e adesso andremo a vedere di cosa si tratta era una cosa che avevo già notato perché queste animazioni che inizialmente erano per premiere sono state poi anche ricostruite in da vinci mantenendo lo stesso principio logico e quindi vedrete in alcune animazioni il logo non è integrato nella programmazione a nodi di fusion e non si può caricare e quindi dovremo andarlo per forza ad inserire in una seconda linea poi vi farò vedere eventualmente un escamotage anche se in realtà io sarei in grado di entrare dentro la programmazione propria dell'effetto modificarlo ma questo per una questione etica non ve lo faccio vedere e perché ho avvisato l'azienda che nel frattempo sta anche lavorando a un grosso upgrade di questo pacchetto e quindi vediamo se eventualmente integrerà con degli aggiustamenti ma secondo me queste restano delle ottime animazioni andiamo a vedere il pacchetto di cui parlo è questo qui ecco mi tolgo un attimo così lo vedete meglio così dall'immagine capite a cosa mi sto riferendo niente adesso andiamo in da vinci e vediamo direttamente cosa succede ecco l'animazione che fa a cui faceva riferimento l'amico è di quelle del subscribe che ovviamente sono in ordine alfabetico eccole qua e in particolar modo a questa come vedete guardate io la faccio partire da qua così vedete anche la velocità con cui vengono visualizzate le animazioni che non sono per nulla pesanti vedete esce questa schermata e poi a parte anche il loghetto subscribe si apre quel buco andiamo inserirlo sopra questa ripresa che avevo già messo e andiamo a visionarlo e vedete che sale e poi si apre e qui è ovviamente intuibile che andrebbe qualcosa allora uno pensa andrà un logo queste animazioni sono tutte personalizzabili da inspector quindi se apriamo inspector vediamo la scritta don miss news video quindi è questa qui la possiamo modificare anche italianizzandola segui i miei video e scrivendo quello che si vuole come sto facendo adesso io in questo momento però magari qua posso mettere il mio nome ecco qua sotto e se voglio italianizzare subscribe voglio mettere iscriviti posso scrivere qui iscriviti eccolo qua e questo sarebbe quando poi verrà schiacciato il pulsante vedete viene iscritto e quindi qui vado a mettere iscritto eccolo qua e qua avrò l'animazione e ecco qua abbiamo rimpiazzato come vedete un attimo tutte le scritte eccolo qua e però appunto vediamo che resta il buco ma se continuiamo vediamo che non troviamo nulla inerente a un possibile logo da caricare perché perché come detto questa animazione è semplicemente pensata spostandola su un'altra linea prendiamo il nostro logo ora io lo andrò a caricare eccolo qua e inserendolo sotto l'unico problema è che molte di queste animazioni come vedete ad esempio salgono e quindi bisogna identificare la zona dell'animazione dove si sta ecco qua per aprire il cerchio quindi bisogna portarsi qui e in questo punto cioè quando ormai lo schermo è completo andare a inserire qui il nostro il nostro logo e ovviamente ridimensionarlo a questo punto ci conviene andare quando il avanti quando il buco sarà aperto del tutto eccolo qua e quindi andare sulla ripresa sotto del logo ridimensionarlo eccolo qua e posizionarlo spostarlo quindi andiamo così e andiamo giù ricordatevi che se premete questo pulsante qui questo schermo come vedete ora è possibile spostarlo e quindi è molto più semplice fare l'operazione magari che fare l'altra parte come vedete lo posizioniamo in questa maniera possiamo vedere anche la dimensione quindi zoom vedete eccolo qua possiamo posizionarla poi finemente magari usando anche i cursori unica cosa da fare attenzione è se l'animazione va via ma questa è un'animazione che resterà lì fino alla fine e quindi va bene così e quindi avremo come vedete sale e si apre con il logo non è una cosa complicatissima però sarebbe stato più carino se il logo fosse stato inserito dentro l'animazione un'altra soluzione che potrebbe risolverci il discorso per sé senza star lì ogni volta a dover inserire la seconda linea e quindi dover usare anche una seconda linea è quella di riportare l'animazione in posizione normale senza logo e spostarci in fusion come vedete in fusion l'effetto tutta l'animazione è data da un unico nodo e quindi non possiamo in nessuna maniera intervenire come vedete si aprirà sempre il spettro però questo non cambia niente quindi andiamo a programmare il logo che ci si apre come abbiamo fatto adesso soltanto da fusion quindi prendiamo un background come vi ho sempre insegnato e lo colleghiamo al nostro media out poi andiamo a inserire questo la programmazione della nostra animazione così in maniera che si formi un merge e ora avremo l'animazione come prima in uscita vedete che possiamo anche notare il for campo dei dei pezzi che che salivano bene adesso andiamo dal media pool andiamo a cercare il nostro logo lo portiamo giù lo andiamo a inserire andiamo a visualizzarlo ovviamente per vedere in uscita dovremo mettere media out e premere 2 eccolo qua attenzione background che dovrà essere trasparente quindi abbassiamo l'alfa e media in andiamo a restringerlo dobbiamo usare un transform qui andiamo a inserire qui e con questo transform potremo sia dimensionare il logo che posizionarlo qui da center vedete andiamo a spostarlo come prima facciamo riferimento all'asse centrale questo qui e lo andiamo a posizionare qui e come dimensione ora possiamo ridimensionarlo finché ecco sia così attenzione che se torniamo indietro a un certo punto vedremo comparire il nostro logo perché il nostro logo è sempre sotto qua possiamo fare due cose possiamo portarci qui dove il logo è coperto andare in media in e tagliare il nostro logo vedete questo è da dove incomincia apparire global in da dove incomincia apparire il logo sulla nostra animazione accorciando questo possiamo far apparire al sedicesimo frame il nostro logo qui siamo a 15 frame quindi prima non si vedrà proviamo a tornare dietro e infatti vedete che non si vede nulla andiamo avanti e quando il bianco qui si aprirà ci sarà già sotto il nostro loghetto eccolo qua quindi cosa possiamo fare per non ripetere ogni volta questa cosa semplicemente andiamo a sottolineare tutto salviamo l'animazione con un nome sul desktop dove vogliamo e magari poi la ce la possiamo spostare nel power beam quando torniamo qui vedete che abbiamo qua la nostra animazione questa la buttiamo via al posto di questa mettiamo una new fusion composition abbiate pazienza basta fare una volta solo questa cosa andiamo in fusion e trasciniamo giù la nostra all'interno la nostra programmazione la colleghiamo ora qui avremo la nostra programmazione eccola qua torniamo possiamo ricentrare il programma normalmente andiamo a vedere e vedremo che la nostra e adesso andiamo nei power beam cerchiamo se voi io ad esempio mi sono fatto una cartella youtube se no potete metterla dove volete io la metterò qua dentro potete prenderla la fusion composition e trascinarla qui rilasciarla andiamo a nominarla come youtube animazione magari il 02 ecco quando dovrò fare un nuovo montaggio mettiamo un'altra nuova ripresa per per vedere tornerò nei miei power beam cercherò la mia programmazione ed ecco quindi come vedete l'animazione perfettamente funzionante quindi possiamo usarla anche più volte nei nostri lavori il terzo sistema sarebbe quello in fusion di entrare all'interno di questa programmazione e modificare a nostro piacimento appunto la programmazione sistemandola con il logo già inserito però come detto questa cosa non mi sembra molto etica mettere le mani sul lavoro di altri per cui in questo tutorial non ve lo farò vedere bene io vi ringrazio di avermi seguito valutate comunque l'acquisto di questo pacchetto perché è veramente un acquisto stupendo e se non sapete a cosa mi sto riferendo andate a vedere sulla idila ecco che io mi sbaglio sempre e vi inserirò riferimento al video così potrete vedere veramente quante animazioni e quanto belle siano tutte dedicate a youtube e i social e ci vediamo prossimamente ciao a presto